ma che è è la canzone del momento e baby shark baby shark è una cosa per bambini si si e tu non ne posso fare nemmeno a me me pare una strunzata salve salve che cazzo sei un cameriere che prende uno xarax e lo marchio ma che te guardi guarda avanti sto rincoglionito come scusa niente niente prosegui vabbè bambini shark e tutti Bambini shark è tu 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 buambi shark Sì. Sì. Perfetto. Perfetto. Beh! Mi chiamo Virgola. Sono un gattino. Sono la stella del telefonino. Oh, ma l'allora di questa? Pazzesca. Chiusa la parentesi. Lo sai chi è? Se non rispondi questo non lo saprai mai. Mi chiamo Virgola. Sono un gattino. Sono la stella del telefonino.